Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnala un chilometro di coda per lavori tra Monte San Savino e Val di Chiana. In direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Spostandoci sulla FIPILI in direzione Firenze rallentamenti per lavori tra Ponte d'Era Est e Montopoli-Valdarno. Lo sciopero odierno, inizialmente proclamato della durata di 24 ore, è stato ridotto a 4 ore e si svolgerà fino alle 13 con fascia di garanzia a partire dalle 12.30. Lo sciopero interesserà il trasporto pubblico locale in Toscana e nello specifico treni, bus e tramvia. Nel servizio autobus urbano di Firenze è previsto un ulteriore sciopero dalle 17 alle 21.00. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!